Salve, sono Mark, vengo da Toronto in Canada e sono 21 anni che insegno inglese, 20 anni a Roma. Quindi questa serie farò il possibile così che gli italiani non sbaglino più a pronunciare una parola inglese. Quindi iniziamo con la prima lezione. Ok Giuseppe, come stai oggi? How are you today? Giorno professore, how do you pronounce this word? Meh, si pronuncia thank. No is thank. Thank, la lingua va sopra il palato, quindi thank. La prossima parola theme. No, theme. Repeat after me. Theme. Questo suono viene rappresentato in fonetica con la lettera teta greca. E questa parola Giuseppe? Questa è facile, think. 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 Ma la th non viene solo pronunciata come una teta, ma anche come una delta. E così viene rappresentato nella fonetica con la lettera delta. Come? Mother. No Giuseppe? Mother. Repeat è sempre una delta. Non fa ther, ma fa ther. Delta. Fa ther. La prossima consonante che è estremamente difficile per gli italiani è la h. Quindi come si pronuncia questa parola Giuseppe? Questa la so. Happy. Happy. Quindi aspirata. La h viene aspirata. Happy. Ok? E una sola B. Non doppie. Le doppie non si pronunciano. Guarderemo le doppie in un secondo. Abbiamo questa parola. Ear. Come no? Ear. No, not ear. This is ear. Ma hear. Put your hand in front of your mouth. Hear. Quindi voi sentirete l'aspirazione. Hear. Ma attenzione, ci sono delle eccezioni come questa parola. Ah, allora è hour. Hour. No Giuseppe. Hour. Hour. In questo caso l'h non viene aspirata. Hour. In questo altro caso è honor. 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 Non viene aspirata. Quindi come ho promesso anche le doppie non vengono pronunciate come in italiano. Quindi questa parola Giuseppe? Va, questa è facile. Summer. 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 One M. Solo una. Summer. Quindi ritorniamo alla parola precedente. Questa allora è happy. 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 ci sono anche consonanti che non vengono pronunciate come in questa parola. No. No Giuseppe. No. No. With a K. Senza la K. Prossima parola. Knife. 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 E questa parola? di psicologi. Psychology. 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 Di sono anche consonanti che a volte vengono pronunciate e altre volte no. Dipende dalla parola. Guardiamo questa parola. Giuseppe, come si pronuncia questa parola? Ah, questa la so. Enog. Mmm. Enough. Enough. G-H in questo caso si pronuncia come una F. Ma la G-H a volte non viene pronunciata. Come questa parola. Cogged. Cot. Cot. Oppure thought. In questo caso la TH si pronuncia come una delta. Quindi though. Though. G-H non viene pronunciata. Though. Mannaggia, oggi non becco una in inglese. Forse la prossima volta sì. Ed è tutto per oggi. Grazie mille per avermi guardato e spero che nella prossima ci sarete ancora. Have a nice day and see you next time. Bye bye.